Cosa stiamo facendo qua in questo atrio del castello con Nicola Di Silvio che è la di Moni International? Sì, anche perché siamo media partner per questo progetto, fortemente voluto dalla Rosa di Gerica, ribissiamo la proiezione del lungometraggio 1799 La Rivolta che poi si inserisce nel progetto voluto dall'amministrazione comunale come la primavera della cultura. Di cultura si parla, si parla appunto di un rispolvero attraverso un documentario filmato di quello che sono stati gli avvenimenti del 1799 che ha visto Mola in prima fila con i comuni limitrofi e la mancanza di documentazione storica che poi non ha avuto esodo in quanto gli archivi sono stati distrutti ha portato ad una profonda ricerca da questo punto di vista che stasera appunto è stata documentata e ci porterà a conoscere un frammento di realtà storica amulese. Questi DVD li possono trovare soltanto alla Rosa di Gerica? Non costano neanche tanto. Sì, ora il prezzo penso sui 12-13 Euro, sono dei DVD che appunto la Rosa di Gerica ha prontato proprio per dare la possibilità a tutti coloro i quali non potessero o non hanno in passato visto questa proiezione e perché no, anche di poter tenere un pezzo di storia nella propria casa e quindi guardarlo a piacimento. Noi ti vengono in pubblica, li mettiamo subito questo in rete domani e naturalmente... E noi ti ringraziamo per la disponibilità anche perché quando si parla di Mola non esistono colori. Ciao, ciao, ciao grazie a te. Ciao, ciao.